buongiorno a tutti ragazzi rieccomi qua son mega ticker eccomi qua sono tornato con un video molto importante prendetevi 5 10 15 minuti quello che durerà il video ma date retta me ci sono notizie e informazioni molto molto importanti per chi vuole acquistare questo controller come sapete se avete seguito il mio canale io testai il controller appena uscito ne fui molto molto entusiasta tuttora lo sono nonostante quello che sto per dirvi e solo successivamente un po grazie appunto all'utilizzo mio ma soprattutto le prime segnalazioni sono arrivate sul mio gruppo facebook tra l'altro nei nei lascio il link nella descrizione potete iscrivervi se vi interessa l'argomento molta gente ha iniziato a dire che accusava problemi di vario genere e da lì è nata una telenovela veramente da fare di quelli anni 80 che durano dieci anni e tuttora in realtà sta andando avanti però diciamo che la cosa sembra essersi definita e quindi solo adesso comunque sono qua per raccontarvi tutto quello che è successo iniziamo dall'inizio appunto vari problemi lag sostanzialmente i problemi sono stati appunto di lag molta gente accusava lag spostamenti differenti e andando a destra piuttosto che a sinistra ad alcuni appunto il controller andava da solo cioè si dava l'input a destra lasciavi la levetta il personaggio continuava a girare per i fatti suoi o ancora col blocco dei trigger appunto a metà corsa non sebbene si scacciasse tutto non si avvertiva l'input e diciamo che questi sono i vabbè qualche altro errorino di connessione con playstation alcuni non riconosciute la playstation insomma però quelli sono marginali diciamo che quello secondo me era il tipico errore che ci sta un controller difettoso nella quantità ci può stare ma il fatto grave appunto è stato che sembrerebbe che tutti tutti i controller usciti fino ad oggi soffrano di un difetto hardware e quello è la cosa molto molto brutta per cui appunto le levetta analogiche danno degli input ghost dei insomma appunto degli input fantasma che fanno muovere da sé il personaggio e anche quando non lo fanno comunque si avverte qualcosa di strano io sto mirando il controller valento appunto dall'altra parte e il motivo è semplice di fatto io se vado a sinistra lui valento è perché dalla parte destra c'è qualcosa che da un input anche a destra abbiamo fatto 8500 prove abbiamo scoperto noi e solo noi del mio gruppo non io personalmente ma un ragazzo che addirittura l'ha smontato l'analizzato eccetera scoperto appunto il difetto era hardware c'è da dire che razzer non ha mai ammesso questa cosa o meglio dopo i video ha sostituito tutte le unità difettose non ha battuto ciglio però diciamo che non ha mai rilasciato una dichiarazione ufficiale dove dicesse sì è vero sono usciti i primi 10.000 controller e sono tutti difettosi questo ha fatto infuriare il popolo del web ha fatto infuriare giocatori come me ha fatto infuriare veramente veramente tutti scelta da parte i razzer inspiegabile dato l'importanza del marchio ci sarebbe ci si sarebbe aspettato appunto una dichiarazione ufficiale certo è che sostituire io non so quanti ne ha prodotti adesso vi parlerò di numeri di serie comunque non so quanti ne ha prodotti sostituirli tutti ridare o ridare tutti i soldi sarebbe stato un grosso esborso però insomma avrebbero sicuramente fatto più bella figura e visto che questi problemi sono anche nati abbastanza subito dopo al lancio diciamo in europa ma anche in america perché le prime voci venivano d'oltre oceano appunto siti americani che comunque ne parlavano tutti i siti di diamanti dell'oggetto gente giocatori gente semplice è difficile trovare anzi io in realtà sarò il primo non ne ho trovati non ho trovato gente che abbia denunciato questa cosa io sono qua a portare la mia esperienza onde evitare ripercussioni di vario genere dico che è frutto di esperienza di dati oggettivi sono supposizioni le mie non non sto dicendo che assolutamente sia vero che sono usciti tutti tutti difettosi però se la statistica non mente nel mio gruppo facebook adesso siamo in 180 quasi 190 persone tutte hanno avuto il problema diciamo che se non tutte le unità sono uscite difettose diciamo che la maggior parte o quantomeno la maggior parte di quelle uscite in europa comunque sia tornando al difetto del controller è stato un parto è stato un parto perché c'erano un mix di difetti firmware e un mix di difetti hardware dicevo questo ragazzo che l'ha smontato ha scoperto questa cosa tra l'altro corregibile con sistema veramente semplice ossia spruzzando dell'aria compressa direttamente qua dentro dalle fessure degli analogici qualcosa cambia e nei casi più blandi dove questo difetto non è così pronunciato come il mio primo controller faccio parentesi questo è il terzo che quello che vedete in mano a me è il terzo controller raser ne ho sostituiti due prima di avere un'unità funzionante comunque sia spruzzando appunto l'aria compressa qua io stesso ho appurato e ho testato che il difetto si modificava e poi nel mio caso è anche sparito non me ne sono stato di questa di questo sistema perché non mi sembra giusto un controller che costa 230 euro nuovo non mi sembra giusto che sia io a che debba farlo funzionare e quindi ho contattato la razza che comunque sono stati molto gentili ma l'hanno sostituito in tempi tra l'altro anche brevissimi allora il dicevo il problema firmware e soft e hardware ha generato molta conflusione perché molte persone con meno esperienza nel senso una persona che prende in mano questo oggetto ovviamente e non sa cosa quali sono questi problemi ovviamente è difficile che distingua appunto la natura del problema ma ci sono dei metodi che cerco di ispirarvi adesso velocemente che vi appunto permettono di verificare se il vostro controller è affetto da difetti hardware e di conseguenza poi solo una volta appurato quello potete giudicarne la bontà del firmware è stato molto molto difficile anche perché non tutti i giochi presentano manifestano lo stesso problema e nello stesso modo questo è dovuto al fatto che la registrazione della zona morta di intervento delle levette cambia da gioco a gioco e vi dico già che se volete fare uno dei test migliori vi scaricate fortnite gioco che a me sinceramente non piace ma comunque per questo scopo va più che bene perché in fortnite appunto il controller si comporta nel peggiore dei modi ossia anche a microscopici spostamenti da l'input al personaggio e anche se c'è appunto un piccolo input residuo da un lato piuttosto che sopra sotto il personaggio vedrete che si muove da solo e la mira anche si sposta da solo per farlo forzate un po la cosa date dei piccoli colpetti alla levetta andate avanti mollate di scatto giratevi insomma menatela un po a tutte e due le levette in modo da cercare di riprodurre di fare appunto innescare quel tipo di difetto se questo non avviene anzi torno indietro ma e vi dico un'altra cosa un'altra prova è prendete un vostro bel cecchino puntate verso il cielo e questo lo potete fare anche con destiny 2 io l'ho fatto su quello puntate verso il cielo e vi faccio un esempio nel mio caso l'input ghost input era verso l'alto e quando voi dall'alto andate verso il basso lentamente lentamente vedrete in la mira che scende giù pian piano se nel percorso della mira vedete dei piccoli impuntamenti e scatti vuol dire appunto che c'è un input dal lato opposto che rompe le palle e questa è una prova che potete fare è meno esplicativa e meno sicura dell'altra nel senso che l'altra se c'è se il personaggio si muove da solo è per forza quello quello lì potrebbe anche essere a volte voi che fate un po uno scattino che altro però diciamo che conoscendo la bravura di tutti voi giocatori saprete riconoscere appunto se è una mira che va a scatti perché voi andate a scatti o se il controller va a scatti queste sono le prove principali una volta tolto quel difetto e come nel mio caso c'è solo il discorso firmware succede una cosa molto molto strana allora va detto che sono usciti tre aggiornamenti dall'uscita del controller 1.01 1.02 beta non è mai stato rilasciato in maniera ufficiale e 1.03 l'1.03 e l'1.02 non si capisce per quali scelte commerciali e di assistenza non sono state rilasciate nel sito ufficiale razzer voi se andate su razzer troverete solo l'aggiornamento 1.01 ma tutti quelli che si sono ambientati via chat via mail via telefono con la razzer hanno avuto i vari firmware man mano che uscivano io mi sono interfacciato moltissimo con l'assistenza a razzer probabilmente mi odiano perché gli ho scritto un email a giorno anche molte di più a volte e ho chiesto il motivo di questo rilasciare a spizziche bocconi gli aggiornamenti non a tutti a qualcuno si a qualcuno no poi è uscito l'aggiornamento 1.02 ma era una beta si la installate si no poi è uscito l'1.3 con il messaggio però se avete l'1.2 non va bene l'1.3 non attaccato insomma c'è c'è un alone di mistero dietro a tutto questo e non si spiega perché comunque la razzer mi ha dato delle informazioni ma non diciamo no secondo me non non precise non non che chiariscono fino a fondo si ha detto che l'aggiornamento 1.02 è simile come effetti all'1.03 è stato sviluppato in maniera diversa e che quindi però appunto se uno ha già l'1.02 il 3 non sortisce alcun effetto mi sembra una cosa assurda nel senso che appunto se un firmware attraverso programmazioni diverse mira a correggere degli errori che nell'1.2 non sono stati corretti potrebbe essere nella mia ignoranza che un 1.3 li corregga anche perché io immagino con firmware cancelli tutto quello che c'è dentro e si sovrascriva quello precedente ahimè l'informazione da parte razzer è inutile dirlo è stata veramente veramente pessima commercialmente si è mossa a mio giudizio veramente male 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 quindi su questo nota gravissima di nemerito alla razzer però spezziamo una lancia a loro favore il fatto che comunque questi controller li stanno sostituendo non fanno neanche tante storie anzi addirittura moltissimi utenti hanno ricevuto la modalità veloce ossia la razzer chiede di tagliare di staccare quest'etichetta tagliarla tagliare il cavo di alimentazione tenetevi il pad ve ne mandiamo un altro questa è un'ottima cosa diciamocela tutta vi resta un pad sì è vero che è mal funzionante ma avete un sacco di pezzi di ricambio le vete quant'altro eccetera una custodietta eccetera eccetera altri casi invece come nel mio è stato sostituito tramite invio di adesso qua dietro la telecamera non vedo cosa sto facendo non riesco per mettere il coso invio tramite buono dal sito razzer c'è da dire che in questo momento nel sito razzer non sono più disponibili controllo però questo secondo me è un bene perché è un bene perché abbiamo scoperto sempre statisticamente che i numeri di serie incriminati come vedete se lo vedete il mio è un pm 18 45 i primi controller usciti erano pm 18 35 36 37 e così via adesso non fatevi ingannare da beh però mega tickle 30 c 18 35 è vicino al tuo 18 45 c'è tutta questa altra sfilza di numeri che adesso non si vede perché non riesco a mettere a fuoco ma comunque dopo il 45 c'è una sfilza di numeri che non finisce più quindi a muovere quelle due numeretti finali vuol dire che sono migliaia di controller questo qua che mi è arrivato a me è funzionante ragazzi non ha nessun tipo di difetto hardware l'ho testato una settimana intera non ha nessun difetto hardware l'unico difetto che ha è la connessione via cavo che non si capisce bene per quale motivo non va o meglio da problemi con la playstation normale non me li dà con la playstation pro cioè se io gioco con la playstation pro non mi si manifesta mai il problema che adesso vi spiego quale problema è ma è invece se lo attacco la playstation normale si manifesta il problema in questione è questo nel attaccarlo via cavo a volte io mando avanti il personaggio giro a sinistra questo per una frazione di secondo non gira e io dico questo è un lag maledizione lo rimando avanti giro a destra e questo non gira resta fermo e insomma ha effettivamente un ritardo che uno può chiamare lag ma a me sembra che proprio manchi l'input elettrico il segnale non che che sia lento ad arrivare proprio che non ci siano dei mancamenti questo in un primo momento ho pensato ho dato una un'idea razzer poi va bene ma detto no megati che stai dicendo cagate comunque pensavo che potesse essere un problema di alimentazione elettrica ossia non so bene com'è fatto dentro comunque io applico una tensione passa un amperaggio magari ci c'è qualcosa che va in interferenza elettronicamente la razzer ha detto di no io poi quando la playstation pro non mi ha dato questo effetto questo difetto testa dura sono andato a verificare l'amperaggio il voltaggio distribuito dall usb della playstation normale quello della playstation pro ahimè e purtroppo o per fortuna sono identici quindi escludiamo effettivamente il discorso alimentazione elettrica si potrebbe trattare di una incompatibilità con il firmware della playstation normale e non con quello della pro nel mio gruppo tanti alcuni anzi mi hanno detto no megaticker non dire una cosa del genere perché comunque a me da problemi anche con la pro a queste persone ho fatto fare i test e si è scoperto che avevano comunque problemi hardware quindi quello che loro prevedevano come che sentivano che io dicevo è un input che manca eccetera di fatto non era causato dal firmware di fatto causato da questo maledetto difetto hardware è da lì che è nata tutta questa confusione perché se uno non sa di avere difetto hardware pensa ad avere mille difetti firmware se uno invece esclude assolutamente l'infetto hardware può essere più obiettivo sul sul resto il trigger vi tranquillizzo subito andato col primo aggiornamento è sparito il problema hanno tarato meglio evidentemente la corsa l'input massimo a metà corsa cosa banale tra l'altro piccola parentesi l'ho già scritto n mila volte io spero che daranno retta al piccolo megaticker ma comunque non sono l'unico averglielo detto è una ferrari con tre marce questo controller come avere una ferrovi comprate una ferrari e gli mettete tre marce perché per i siete non lo dico cosa siete però comunque è una ferrari veramente perché il controller funzionante confermo tutto quanto detto nel primo mio video è difficile trovarlo funzionante ma se lo trovate confermo tutto però è una ferrari perché perché hanno a potrebbero a implementare software con migliaia di cose personalizzazione della corsa zona morta trigger input che arriva un quarto un terzo quel cavolo che vuoi è tutta roba firmware software che l'anacon ha fatto che l'xbox elite ha fatto non si capisce perché razzer con programma banale non lo faccia per questo oggetto da 230 euro è una cosa inverosimile inverconda che mi fa veramente incazzare scusate se la parolaccio ogni tanto mi scappano anche a me per cui adesso vi chiederete ma e quindi cosa dobbiamo fare con questo controller allora io ci sono diverse tipologie di persona c'è una persona come me che prende un controller gli piace talmente tanto che se ne frega delle delle asperità e delle difficoltà va avanti fino che non riceve finalmente un controller dopo due sostituzioni che gli va bene io il primo non sono fatto sostituire da amazon ma mi è arrivato un numero serie ancora più vecchio di quello che avevo il secondo me lo sono fatto sostituire da razzer c'è la persona che invece lo ci gioca cinque minuti dice oh ma io ho speso 200 euro ma questi qua sono scemi e lo vorrebbe spaccare contro il muro queste persone appunto non la perdonano razzer non la perdona non concepiscono il fatto che possa essere uscito in catena di montaggio un controller difettoso per così tanto unità c'è la persona che non sa bene come muoversi perché effettivamente è un po una giungla chiamo l'assistenza l'assistenza americana gli scrivono in inglese chiamo un numero o scrivo al negoziante cosa cavolo faccio in realtà è tutto molto molto semplice e sul mio gruppo sto dando sto cercando di dare veramente tanta assistenza tutti quanti chi mi sente potrà confermarlo anche addirittura privatamente con whatsapp e con dei messaggi privati il consiglio è e qua non lo so è un po pericolosa come affermazione però visto che statisticamente prima di questo benedetto pm 18 45 il 99 per cento dei controlli che ho sentito in giro sono col difetto hardware il mio consiglio sarebbe aspettate di trovare o in negozio e lo verificate subito perché comunque c'è anche nella scatola prendo la scatola un attimo ragazzi e ve lo faccio vedere se voi andate in negozio qua potete verificare il vostro bel numero di di serie del controller quindi fisicamente potete verificarlo e non prendere magari un numero precedente a meno che non siate di quelli che come me se ne fregano lo prendono lo stesso trovano l'occasione un mio amico come carissimo amico ha trovato l'occasione del tournament a 99 euro da euro onyx se ne fregato la preso gli arrivato difettoso come adesso procederà alla sostituzione e lui ha detto io me ne frego ma anche fossero due sostituzioni io però a 99 euro avrò un controller perfettamente funzionante perché comunque ricordatevi che la razza è di tutela la legge vi tutela voi avete due anni per sostituirlo questo controllo ve lo devono sostituire non c'è anima che tenga e quindi le scelte spettano sostanzialmente a voi volete andare incontro a un possibile iter di sostituzioni prendete anche un numero prima del 45 volete invece essere più sicuri prendete un numero dopo 45 un utente del del mio gruppo al 18 47 e lui non ha problemi come dicevo prima se la statistica la matematica non mente due su due dal 45 e poi funzionano tutti quelli sotto compresi il 43 18 43 sono malfunzionanti cosa cosa dire ancora che il controller è stupendo ragazzi è veramente attualmente il più bel controller che io abbia avuto per playstation 4 se la gioca come ho detto nel mio video solo con l'xbox ma perché l'xbox è stata molto più intelligente e ha fatto veramente un capolavoro anche a livello di personalizzazione ma adesso stiamo parlando di playstation e questo secondo me attualmente è veramente il controller più bello che ci sia è anche vero che sta arrivando la concorrenza e questo è un messaggio per razza ragazzi fra tre mesi a marzo fine marzo astro cc 40 tr esce e promette veramente tanto 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 addirittura l'opzione di scambiare l'analogico destra sinistra la programmazione tramite software delle varie cose vabbè sono stati fessi ha messo solo due tasti da astro invece 4 è anche vero che come vi dicevo io a questi non ci arrivo sebbene adesso mi abbia spiegato un piccolo trucchetto che devo ancora tentare ma comunque per me questi sono inutili ma ci sono tante persone con le dita molto più lunghe delle mie ci arriva quindi io sono disponibile sul mio gruppo facebook per chiarire ogni dubbio alle persone educate e tutto quanto do anche il mio numero di telefono ci sentiamo ci interfacciamo vi aiuto io vi spiego cosa dovete fare entro certi limiti ovviamente perché questo nobby non è un lavoro il controller ha avuto un puttanaio di problemi ma sembrerebbe essere sulla buona strada vi dicevo e poi vi lascio la cosa buona che nel sito razza dove andranno tutti a chiedere la sostituzione attualmente non ci sono più controller quindi i nuovi controller che arriveranno saranno tutti successivi al fatidico 1847 ultimo che conosco e quindi se tanto mi da tanto secondo me razzer furba si sarà accorta del problema ardor avrà corretto la catena di montaggio perché secondo me è quello stato il problema io genero uno stampo che mi fa un casino sulla levetta mando in produzione al giorno 100.000 controller e i 100.000 controller sono difettosi fino a che non me ne accorgo e lo correggo dalla produzione ma succede anche con le macchine ma infatti ci sono i richiami tanta gente è sconvolta per quello che è successo ma nell'automazione nelle macchine nelle moto in tutto quanto ci sono dei richiami proprio perché da un certo numero di serie all'altro ci si accorge che è andato qualcosa storto e tutti hanno presente quel difetto quello che effettivamente è inspiegabile è perché il razzer non l'abbia ammesso capito non c'è io non posso dire come vi dicevo prima non ho la certezza di questa cosa questo è frutto di mesi di interfaccia con altre persone test e prove eccetera però io non ve lo posso dire ufficialmente io non lo so se andate veramente così razionalmente vi dico di sì perché se no non si spiegherebbe tutto quello che è successo però comunque sia se vi comprerete un razzer dal sito ufficiale d'ora in poi secondo me vi arriverà un oggetto che vi farà veramente veramente felici spero di essere stato chiaro e sperato tutto se avete dei problemi per favore il gruppo facebook è il luogo più adatto per per chiedere fare domande per pubblicare foto video quello che volete tra l'altro nel gruppo facebook ci sono appunto i miei video dove faccio vedere che il difetto come si manifesta e che cos'è quindi no non non possiamo far altro che non posso far altro che darvi il mio saluto e ci si vede online su facebook per il razzer raiju ultimate e tarment due controller che se li trovate funzionanti sono il top ciao ragazzi bella serata a tutti qua i megaticker ciao ciao